Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo a Moncucco, fazione di Vernate e sono tornato per riprendere il suono a distesa di queste campane allora praticamente sono rotte la campana seconda, la campana quarta vabbè le altre due sono completamente inutilizzate adesso sentiremo la distesa delle quattro campane rimanenti cioè la prima, la terza, la quinta e la sesta e poi un concerto solenne simulato con le campane che possono andare a concerto e quelle che non vanno vengono percorse col battaglio, col martello scusate purtroppo è l'unica suonata possibile in cui le possiamo sentire tutte a presto grazie a tutti 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 grazie a tutti